Lavorare in un hotel così prestigioso è bello, c'è nel senso che ogni giorno ti viene voglia veramente di venire sempre prima, di far meglio, qua a Mandarin c'è solo e esclusivamente tutto l'Electrolux. Il vantaggio dell'Electrolux è soprattutto l'efficacia e la sicurezza che suggerisco spazialmente per l'Electrolux a tutti. Grazie al materiale Electrolux professionnel che è installato in un caso di cucina, noi arriviamo come ceci a dare dei corsi di livello diversa, allora tutto il materiale Electrolux è ovviamente irreprochabile in termi di utilizzazione. Io sono Sebastiano e faccio insieme con il mio ragazzo di Zinners, se non funzionare il servizio che non funzionare il servizio non funzionare il servizio, il servizio, il servizio, il servizio e il montaggio fino ad ora, è sempre stato un'attività di partenze. ProgmaGreek è per me un ottimo posto, è un ottimo posto per lavorare. Abbiamo chiesto l'Electrolux e l'Electrolux e l'Electrolux e l'Electrolux in Stata per essere un partner. e hanno fatto un ottimo lavoro per creare le spazio che abbiamo creato in questo momento. Ci sono ancora molte opzioni che abbiamo bisogno di sviluppare, e abbiamo parlato, abbiamo pensato, abbiamo pensato, abbiamo pensato, abbiamo pensato, e le opportunità sono in questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.